Ciao a tutti ragazzi, sono Ben e benvenuti in questo nuovo episodio di Farmi Simulator 2015 Sono qui sul JCB Adesso l'Ugeria si dovrebbe riempire 49 Va bene, io faccio un piano, perché Non ho... eh sì Non ho voglia di stare a perdere tanto tempo, quindi lui si porterà là in cima al campo Intanto non so cosa servono, costarà evitare la cultura, perché tanto non ci vanno in questa settimana Quale velocità se lo abbassate, vabbè già dal scorso episodio, però ce l'ho su strada Cioè se lo abbassate, perché Eh... sennò fate i casi giù, lui Soprattutto quando va in mezzo agli alberi Cioè in mezzo ai fossi E con il secondo truciato Vediamo un po' se fa l'arretromarcio, soprattutto quello che mi preoccupa Però... sono spaventato Perché pensavo che... In serie a busta albero non ho capito No Andiamo a finirsi di... Ci posso fare l'arretromarcio Se tu non avviate tanto... Tanto bene, no? Soprattutto Ok Vediamo un po' se fa... La mia paura è quella che non vada indietro, come vogliono Per dire adesso Ehm... 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 devo 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 cancellare il percorso perchè adesso devo vedere se vale piazzabile la save o lips a dire che non mi costa tanto su caricatori perfetto ci siamo ehhh guarda mi richiamo no perchè poi qua ci passa no dopo ci facciamo fare il drone ehhh sì non 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 l'ho comprato per me vabbè a quelcone ci serviamo ah si ecco oggetti posizionabili e non ce la pensiamo ma già di un punto che non è proprio un'unico proprio molto usato quindi un'unico un'unico c'è il colmo il bisogno questo è un'unico il risultato suoca un po' suono ma niente per le barbabite no allora registrare perchè non ho seguito ah no, lo faccio un po' di là ora no, meglio, non devo riregistrare quindi stiamo alocco quando ci dice oh, è il traffic oppure vediamo che più o meno al 100% si è bloccato e e ne va sulleva due sappiamo che il fatto è che il fatto è che il fatto è che in teoria qua si preglie tutto o no spero avrei disegnato no perché spero che non dobbiamo utilizzare questa cosa a parte che questo campo volevo farlo ad erba no no eh scusate a alberi si perchè volevo farlo ad alberi scusa però mi è venuto in mente che non abbiamo poi è cambiato poi sarebbe da fare anche con gli altri campi ma intanto noi vediamo che la credi è 77% non ha deciso ah perché è finito qua che senso l'apertura ok sì è sì come sì è è è è è è è è è come è è è è è è ecco vedete che ogni tanto c'è un valvo che legge più veloce il 54 e non è messo il cammino del ferro ok il cammino del ferro è vero questo qui lo faccio io non c'è da niente ok io ne ho visto un'altra cosa non c'è no aspetta non c'è un'altra cosa non c'è un'altra cosa non c'è no aspetta non c'è un'altra cosa aspetta aspetta non c'è un'altra cosa non c'è un'altra cosa non c'è un'altra cosa Andare là, eccolo qua, con un'altra, cerchiamo il disco ma è finira. Siamo in metà dove era? Andrò di nuovo. Secondo me sta slittando. Secondo me sta portando. Qui ritiermene un po' un po'. Guardi, ma c'è un po' un po' un po'. Ah, ecco, non c'è l'unico. C'è l'unico, ma c'è l'unico. Intanto il mio trattore è a 7,7 ora, quindi un po' di lavoro già ce l'abbiamo fatto a fare. Comunque non capisco, cioè quella sotto deve essere la media e quella sopra è cura nel momento. Per�ю si troffa che si vedrà. Io non lo faccio proprio, ma sicché non c'è nessuno lega ancora più. Perché non cistica quello che non c'è la posse. E' più che non è solo questo, ma non c'è già... un quantum con tutto quello che stava un bel altro post 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 ma non sai che sull'amse se l'amse lo fa che gli altri non fanno un po' di vediamo se stavo la concessità anzi la concessità basso basso la concessità di 15 quando la concessità mi ha fatto l'amse la concessità e riusci a scaricare no 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 comunque ho fatto poco con tutto il campo lui penso che vuole fare qualcosa di più adesso devo ancora un po' la density regolarla magari diciamo un po' a 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 quindi ci sono presenti ancora finiamo qua e poi chiudiamo l'episodio se mai adesso vedo un po' quant'è perchè mi sono dimenticato di prendere il tempo totale quindi devo guardare un po' a quanto ammonta il tempo totale del video e se cosa è questa roba quindi potrebbe anche essere stato lo dividendo in due parti vedremo se supera i 30 minuti di sicuro lo dividendo in due parti se non li supera no ok ok ma che è impossibile che sia ragazano coltano 4 fps no ma se fps non posso fare vabbè quindi ragazzi chiudiamo un po' l'episodio guardo un po' di risolvere cosa c'è quindi da Asena è tutto ciao a tutti